Ti voglio raccontare una storia. Me l'ha raccontata un amico cappellano durante la sua permanenza sul Don. Ogni tanto gli alpini vedevano giungere di fronte a loro una simpatica vecchietta ucraina. La donna girava cercando fra le macerie delle isbe qualcosa che solo lei sapeva. Il villaggio distava a pochi passi dal nemico, accampato sull'altra riva del fiume. La donna girava in mezzo agli alpini senza timore. Le guardava con materna bontà e con profondo rispetto. In quella donna ogni alpino vedeva la sua mamma. Lasciata nel paese lontano a piangere, a pregare per lui. Un giorno la donna non tirò dritto come al solito, ma si fermò di fronte al cappellano e gli disse Padre, non so come mostrarti la mia riconoscenza per tutto il bene che fai per la nostra gente. Là, fra le macerie della mia isba, c'è un'icona che mi è tanto cara. Vieni, aiutami a levarla. Te la dono. Nelle tue mani sarà al sicuro. Il cappellano sapeva che le icone della Madonna per il popolo russo avevano un significato particolare. Alla donna, alla figlia che si sposa, la mamma offre un'icona, affinché, entrando nella nuova isba, ne diventi l'angelo tutelare. E così la donna consegnò al cappellano la sacra icona. Quella Madonna sembrava tanto simile alle belle madonne dei nostri paesi. In quel momento gli parve di vedere là, presenti, stretti intorno alla sacra icona, due popoli, in guerra fra loro, sentirsi fratelli, unicchi nello stesso amore per la madre di Dio, in un'ora di odio e di sangue. Poi allora il cappellano costruì attorno all'icona un altare in prima linea, ma la situazione si fece sempre più preoccupante. Il fragore continuo delle cattiusce fece intendere che i russi diventavano sempre più minacciosi. Poi un giorno dal cappellano arriva un alpino, con lo zaino in spalla, e gli dice, padre ti saluto, torno in Italia, ho la mamma che sta male. Fu un attimo, il cappellano staccò dalla parete la sacra icona e la consegnò all'alpino dicendogli, ti manda la provvidenza, porta la tua madre, dille che la custodisca per tutte quelle povere mamme che non vedranno il nostro ritorno. Così almeno sarà loro di conforto. Perché attorno a quella icona i loro figlioli hanno pregato. therevla. Grazie.